Angredì un connazionale a colpi di cacciavite, ma ci fu legittima difesa. A stabilirlo è stato il giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, che oggi ha assolto Ernest Agbovo, nigeriano di 32 anni, ospite fino a qualche anno fa del centro di accoglienza dell'ex Casa Santa dell'Annunziata. L'imputato era finito sotto processo perché, colpendo alle spalle la vittima con un cacciavite, anch'essa ospite della struttura, li cagionava lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. L'imputazione iniziale era aver tentato omicidio, tant'è che il giovane forestaro dalla polizia, che all'epoca dei fatti fu allertata da un dipendente del centro e acquisì le prime testimonianze a sommarie informazioni. Con l'incidente probatorio il reato fu in seguito derubricato e lesioni aggravate dall'uso dell'arma, poiché i due colpi inferti non potevano cagionare il decesso della vittima, stando alle risultanze dell'esame peritale. Nel corso del processo è passata la linea dell'avvocato Alberto Paolini, difensore del nigeriano, secondo il quale l'imputato non voleva né uccidere né aggredire, ma avrebbe solo reagito per legittima difesa. Per il tribunale il fatto non costituisce reato, il 32enne è stato quindi assolto.